È la tradizione antichissima di portare, quando i pellegrini andavano al santuario, di portare indietro l'acqua benedetta per portarla a casa, dalla chiesa alla piccola casa, che è la piccola chiesa di tutti. Boccette d'acqua santa ed una preghiera, insomma una vera e propria benedizione pasquale, fai da te. Si tratta dell'idea creativa ma soprattutto anticontagio dei parroci della chiesa di Santa Maria al Giglio di Montevarchi. A causa dell'emergenza sanitaria, infatti, nemmeno quest'anno i sacerdoti potranno passare di casa in casa per il rituale pasquale. È la comunità cristiana che ti manda a casa, dalla chiesa dove viene celebrata la Pasqua, ti manda un segno della Pasqua. I parroci hanno così benedetto le boccette d'acqua che saranno poi consegnate ai fedeli assieme ad un santino per benedire la propria famiglia e la casa. È portata da persone amiche, ognuno lo porta a casa sua e alle case delle persone a cui vuol bene. Un biglietto, una bella immagine sacra, una preghiera da recitare insieme e l'invito è a tavola, o la domenica a pranzo, o in un momento buono, recitare la preghiera, dire una parola di pace a tutti e benedire i familiari. Insomma, un segno di comunità e vicinanza in una Pasqua purtroppo ancora una volta così insolita. Sono gli antichi segni della vita che riscopriamo adesso che la vita è un po' soffocata, un po' prigioniera della pandemia, messa a dura prova.